Una leggera crescita da una parte e un'altrettanto leggera diminuzione da un'altra. La situazione ambientale a città vecchia, a differenza di quanto avveniva negli scorsi anni, soprattutto nel periodo pre-pandemia, continua a non far registrare particolari oscillazioni. Il report diffuso dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale sulla base dei dati forniti quotidianamente dalle centraline presenti in città e relativo al periodo compreso tra il 7 del 13 febbraio, non si discosta di molto da quelli di gennaio e della prima settimana di febbraio. Tutti i valori certificati da Arpalazio restano al di sotto dei limiti di legge e ancora una volta risultano nettamente inferiori rispetto a quelli riscontrati in altre realtà della regione, in particolare in molte zone della capitale come Eurfermi e Corso Francia, dove sono addirittura doppi rispetto a quelli di Civitevecchia. Nello specifico, proprio per quanto concerne gli ossidi di azoto, nella centralina di via Morandi si è registrato una media di 39 microgrammi al metro cubo contro i 31 della settimana precedente. In via Roma si è passati da 77 a 80 microgrammi, a Villa Albani da 46 a 53 e al Porto da 42 a 46 microgrammi, valori come già accennato notevolmente al di sotto del livello di allarme che la legge fissa a 200 microgrammi. Per quanto riguarda la media del particolato, ovvero delle polveri, è stata di 17 microgrammi al metro cubo al Porto contro i 20 della settimana precedente e di 23 microgrammi a Villa Albani, uno in meno di quella rilevata dal 31 gennaio al 6 febbraio. Nel caso del PM10 o particolato, la soglia di allarme scatta sopra i 50 microgrammi, scende da 0,6 a 0,5 microgrammi il valore del benzene, misurato nella sola centralina di Fiumaretta. In discesa anche il monossido di carbonio, passato da 0,8 a 0,4 nel complesso della città, è rimasto a 0,7 microgrammi in via Roma e a 1,1 microgrammi a Fiumaretta. Valori medie degli agenti inquinanti stabili anche nei quartieri. Per quanto riguarda i biossidi di azoto, il valore più basso è stato rilevato a Sant'Agostino con 8 microgrammi, seguono Aurelia con 10, Faro con 13, Fiumaretta e Campo dell'Oro con 21 e San Gordiano con 24. Per quanto concerne invece il PM10, si va dai 12 microgrammi misurati ad Aurelia, ai 13 di Sant'Agostino, ai 15 di Campo dell'Oro, ai 16 di Fiumaretta e 18 del Faro per finire poi con il 19 di San Gordiano.